Sono pronti a partire i lavori per la riqualificazione dello stadio De Cristofaro. Nei giorni scorsi è avvenuto infatti l'affidamento della gara, ma secondo il presidente gialloblu si registrano comunque notevoli ritardi. Ora dirigenza e tifoseria sperano che vengano rispettati i tempi annunciati per la consegna. Mi fa piacere enormemente questa notizia perché finalmente possiamo tornare alla nostra casa, anche se l'amministrazione conta un notevole ritardo in merito, perché basta pensare solo all'insediamento della giunta Pozieno nel 2015, siamo al 2018 dopo tre anni e quindi penso sia arrivato anche il momento. Non ultimo l'impegno del sindaco che per dicembre completava i lavori e quindi ci dava lo stadio per inizio del 2019. Quindi questo me lo auguro, ringrazio veramente di cuore l'amministrazione e quindi spero che queste promesse vengano mantenute. Una notizia accolta con piacere anche dalla tifoseria. Il movimento Ultras Giulianese, attraverso l'associazione intitolata Giustino Barretta, fa sapere però che c'è preoccupazione per la curva. Fa sicuramente piacere sapere che presto partiranno i lavori, dicono. Lo stadio è importante per tutta la città perché può essere usato anche per altri eventi e per rilanciare un intero quartiere. Resteremo però vigili sulla realizzazione del settore popolare. È una battaglia che abbiamo già fatto in passato e non vogliamo un contentino. Altrimenti, sottolinea il portavoce Pasquale Di Tuccio, continueremo a lottare. Sono preoccupati sulla curva, non so per quale motivo. Forse non ci sarà perché il progetto prevede lo smantellamento della curva esistente e chiaramente loro, essendo l'habitat naturale della tifoseria Giulianese, chiaramente recriminano questo tipo di settore. Spero che l'amministrazione colga l'occasione per poter raccontentare anche questa richiesta. Ma chiaramente più là sicuramente sarà fatta. Il presidente Sestile spiega poi l'importanza per l'avanzamento del progetto sportivo dell'avere uno stadio per giocare in casa. Giocare in casa è inutile dire che per noi è di fondamentale importanza anche perché, ripeto, sia per un motivo di affluenza, sia per un motivo di marketing in la nostra casa è sempre chiaramente il fattore prioritario. Già da diversi anni optiamo per un calcio, per un progetto monco e quindi senza stadio non è da tutti fare quello che sto implementando io. Chiaramente è un forte segno di attaccamento alla mia terra e per questo metterò tutte le mie risorse e tutte le mie energie affinché mi possa portare sempre Giuliano più in alto. Ora si spera di poter disputare la prima gara in città dopo anni a gennaio 2019. Me lo auguro per tutta la tifoseria e per la città intera. Si opta per una consegna sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, sicuramente in quattro mesi si possono fare tantissime cose. Lo Stato di Cristoforo, io penso, in quattro o cinque mesi potrebbe essere completato e consegnato alla città.